In questo video vi porto a Isamal, una cittadina del Messico famosa per gli edifici tinteggiati di giallo. Questo è l'enorme convento di Sant'Antonio da Padova. Il porticato ha ben 75 arcate. Dopo un ultimo sguardo alla piazza principale del paese, iniziamo il cammino tra le sue viuzze, nelle case tutte gialle, verso una famosa piramide. Questa è la piramide di Kinikakmo. L'entrata è gratuita e si può salire anche in cima alla piramide per ammirare un bellissimo panorama della cittadina. Alcuni gradini sono un po' sconnessi per cui bisogna prestare attenzione, ma la Sarita ripaga con questo bellissimo panorama. A Isamal ci sono altri siti archeologici, ma si possono vedere soltanto dall'esterno. a Isamal. 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 Grazie per la visione!